Musica Si è concluso con il concerto di Max Gazet e il suo Cost to Cost Tour, il Summer Programme 2015, eventi live con grandi nomi della musica organizzati da MacArthur Glen in tutti gli outlet del gruppo in Italia e che ha portato alla reggia di Caserta il cantautore romano, dopo un trittico di grandi concerti aperto da Annalisa e proseguito da Bianca a 6 per poi concludersi proprio con Gazet. Complessivamente sono stati quasi 75 mila i visitatori che nei tre weekend hanno affollato i viali dell'outlet che oltre ad assistere gratuitamente alle performance musicali hanno potuto fare shopping fino a mezzanotte nei negozi grandi firme del centro. I fan di Gazet hanno vissuto un vero e proprio delirio durante le famosissime canzoni Una musica può fare, Vento d'estate, La favola di Adamo ed Eva e L'amore non esiste. Annalisa in apertura del Summer Programme ha proposto i brani del suo Splendid Tour con in scaletta le canzoni dell'album che dà il titolo al tour ma anche sento solo il presente che lo scorso anno le ha fatto guadagnare un buon successo di critiche pubblico. Poi è toccato a Bianca a 6 in concerto con i brani dell'album Bianco e Nero tra i quali anche Il solo al mondo con chi è arrivata a Sanremo 2015, La gelosia, La paura che ho di perderti e Non è vero mai. Non è mancato Ciao, Mori, Ciao poi gran finale con Gazet e appuntamento alla prossima estate. Grazie a tutti